Buongiorno a tutti. Prima di iniziare mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere aggiornato e non perderti nulla. Infine ascolta fino alla fine, perché ti accorgerai di quanto è potente il nostro messaggio e quanto ti aiuterà nella vita di tutti i giorni. Oggi vi parleremo di un altro personaggio storico, un esploratore, un conquistatore spagnolo. Ecco a voi la vita e le imprese di Hernán Cortés. Hernán Cortés, un nome che riecheggia attraverso i corridoi del tempo. Un conquistatore spagnolo di fama mondiale, la sua storia è avvolta in un velo di coraggio, ambizione e controversia. Nato nel 1445 in Spagna, Cortés era un uomo destinato a lasciare un segno indelebile nella storia. Figlio di un nobile di basso rango, la sua vita era destinata a essere tutto tranne che ordinaria. Cortés mostrò fin da giovane un acuto senso di avventura. A soli 14 anni decise di seguire gli studi a Salamanca, una delle università più rinomate del paese. Nonostante la promessa di una carriera accademica, il richiamo della scoperta era troppo forte. All'età di 19 anni, Cortés decise di seguire il suo spirito avventuroso e si unì alla spedizione di Nicolás de Ovando nelle Indie occidentali. Cortés trascorse i successivi sette anni a Ispaniola, accumulando ricchezze e guadagnandosi una reputazione come leader capace. Nel 1511 si unì a Diego Velázquez nella conquista di Cuba, dimostrando ulteriormente il suo valore. Tuttavia, la vera chiamata di Cortés non era nelle Indie occidentali, ma nel vasto e inesplorato territorio del Messico. Nel 1518 partì alla volta del Messico, desideroso di farne la sua conquista. Il viaggio verso il Messico fu arduo e pieno di pericoli, ma Cortés era un uomo di ferro determinazione e si dimostrò all'altezza della sfida. Dopo mesi di viaggio, finalmente raggiunse le coste del Messico. Qui, Cortés si scontrò con la potente civiltà azteca. Il suo incontro con l'imperatore Montezuma II è diventato una leggenda, ricco di avventura e di intrighi politici. Nonostante la superiorità numerica degli aztechi, Cortés riuscì a sconfiggerli grazie alla sua astuzia e al suo coraggio. La sua vittoria segnò la fine dell'impero azteco e l'inizio del dominio spagnolo nel Nuovo Mondo. Ma la conquista del Messico non fu l'unica impresa di Cortés. Durante la sua vita esplorò vasti territori, stabilì colonie e contribuì a plasmare il volto del mondo come lo conosciamo oggi. Il coraggio di Cortés è stato ammirato da molti. Tuttavia, le sue azioni hanno anche scatenato la polemica. La sua distruzione dell'impero azteco e il trattamento degli indigeni sono stati oggetto di intenso dibattito. Nonostante tutto, non si può negare l'impatto che Cortés ha avuto sulla storia. La sua figura continua a dominare la narrazione della conquista spagnola dell'America. Hernán Cortés era un uomo di visione e determinazione. Nonostante le sfide che ha dovuto affrontare, ha sempre perseguito i suoi obiettivi con coraggio e risolutezza. Cortés è morto nel 1547, ma la sua eredità vive ancora. La sua vita e le sue imprese continuano a ispirare e a provocare la riflessione. La storia di Hernán Cortés è un viaggio avvincente attraverso le acque inesplorate della storia. È un racconto di avventura, ambizione e controversia. Hernán Cortés, un nome che resterà impresso negli annali della storia. La sua vita è un esempio di coraggio e determinazione e la sua storia continuerà a vivere per le generazioni a venire. Un conquistador, un esploratore, un leader. Questo era Hernán Cortés. La sua storia è un ricordo potente dell'audacia dell'umanità e della nostra incessante sete di scoperta. Gli echi di Hernán Cortés risuonano ancora oggi. La sua vita è un testimonianza del potere della determinazione e del coraggio. La vita di Hernán Cortés è un esempio di ciò che significa essere un vero conquistatore. È una storia di coraggio, di ambizione e di forza di volontà. Il nome di Hernán Cortés rimarrà per sempre nella storia. La sua eredità continua a influenzare il mondo e la sua storia continua a ispirare. Il coraggio di Hernán Cortés, la sua determinazione, la sua ambizione, tutte queste qualità fanno di lui un personaggio indimenticabile. Concludiamo allora questo viaggio attraverso la vita di Hernán Cortés, un uomo le cui imprese hanno cambiato il corso della storia. Ricordiamo Hernán Cortés non solo come un conquistatore, ma come un uomo che ha sognato di esplorare l'ignoto e che ha avuto il coraggio di farlo. Hernán Cortés, un nome che incarna l'audacia, l'ambizione e il coraggio. Un uomo la cui storia continua a risuonare attraverso i secoli. Mentre gran parte della vita e delle azioni di Hernán Cortés è documentata nella storia, ci sono alcuni aspetti meno noti o curiosità che possono suscitare interesse. Tuttavia, è importante notare che molte informazioni potrebbero essere basate su resoconti storici discutibili o leggende. Ecco alcune curiosità meno conosciute. Matrimonio con Catalina Cuárez. Si dice che Cortés abbia sposato una donna indigena di nome Catalina Cuárez durante il suo soggiorno a Cuba. Questo matrimonio misto è spesso trascurato nelle narrazioni più tradizionali. Relazione con la Malinque. La Malinque, o Doña Marina, fu una donna indigena che svolse un ruolo chiave come interprete e consigliera di Cortés durante la sua conquista del Messico. La loro relazione, sia personale che strategica, è stata oggetto di molte speculazioni e interpretazioni diverse. Inimicizia con Diego Velázquez. Prima della spedizione al Messico, Cortés aveva avuto dei contrasti con Diego Velázquez, il governatore di Cuba che inizialmente lo aveva inviato in una spedizione, che poi Cortés trasformò nella sua avventura di conquista del Messico. Questo causò tensioni e rivalità tra i due. Rapporto con la popolazione indigena. Sebbene la conquista di Cortés abbia portato a un'enorme distruzione di civiltà indigene, ci sono resoconti che indicano che inizialmente cercò di rispettare le culture locali e di formare alleanze con alcune popolazioni contro gli Astechi. Espulsione dal Messico. Dopo la conquista, Cortés trascorse parte del suo tempo cercando di consolidare il potere in Nuova Spagna, Messico, ma fu infine rimosso dalla carica di governatore e costretto a fare ritorno in Spagna. Ricerca di Eldorado. Dopo il suo ritorno in Spagna, Cortés partecipò a varie spedizioni, tra cui una in cerca della mitica città dell'oro, Eldorado, in Sud America. Questa spedizione non ebbe successo. Poverezza alla fine della vita. Nonostante il successo iniziale e le ricchezze accumulate durante la conquista del Messico, Cortés finì i suoi giorni in relativa povertà. Morì nel 1547 senza godere della prosperità che aveva sperato di ottenere. Mentre queste curiosità offrono uno sguardo più approfondito sulla vita di Hernán Cortés, è sempre importante considerare la fonte delle informazioni e riconoscere che la storia può spesso essere influenzata da punti di vista diversi e interpretazioni soggettive. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio nella vita di Hernán Cortés. La sua storia è una testimonianza del potere dell'audacia e dell'ambizione. Hernán Cortés, un nome che incita all'avventura e alla scoperta. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del mondo. Se ti è piaciuta la storia di Hernán Cortés, iscriviti al canale, attiva la campanella e scopri le prossime storie speciali, che ti daranno momenti e concetti che ti cambieranno la vita. Oltretutto commenta, il tuo parere è molto importante per noi, sperando di poterti rispondere nel migliore dei modi. Grazie per aver visto il nostro video.